La ventitresima di C1 potrebbe essere stata quella decisiva ai fini del campionato, non tanto per la pronosticabile vittoria esterna del CTEUR ai danni dell'ISIMET Porsche, quanto per la contemporanea sconfitta della più diretta tra le inseguitrici, l'Olympus, uscito abbattuto dal pala d'Arquini. Sono saliti a sette i punti di distacco tra le due squadre, non abbastanza per cantare vittoria secondo Andrea Rossini, che predica calma. Assolutamente no, sicuramente è un bel margine, sicuramente speravamo che le tre partite che l'Olympus aveva in questa fase ne potevamo approfittare un pochino, però il campionato assolutamente non concluso. Il CTEUR affronterà nelle prossime giornate avversari temibili come Palestrina, Lazio Calcetto e Mirafin. Se il distacco dovesse restare invariato fino allo scontro diretto con l'Olympus, si potrebbe allora supporre che sia davvero fatta. Con il CTEUR all'Olympus sicuramente quel punto sarebbe bello, però prima dell'Olympus abbiamo Palestrina e Lazio a Mirafin fuori casa, quindi insomma bisogna prima recuperare queste tre partite difficilissime. Sette giornate al termine, sette punti di margine. Gli uomini di Minicucci sono vicini, mai come ora, a tagliare per primi lo striscione di arrivo.